L'ametista è una pietra viola, un cristallo che appartiene alla famiglia dei quarzi. Si tratta dunque di un quarzo viola la cui particolare colorazione è data dalla presenza di tracce di ferro. L'ametista si può trovare come pietra singola o indruse, cioè in aggregazioni di cristalli impiantati su una porzione di roccia. L'uso di questa varietà di quarzo per realizzare gioielli risale almeno al 3000 avanti Cristo, quando già in Egitto e in Mesopotamia era protagonista di gioielli che simboleggiavano potere e regalità, tra cui il sigillo di Cleopatra. Ai tempi dei Greci e dei Romani l'ametista era anche usata per realizzare anelli in bronzo considerati antidoti contro il male. Durante il Medioevo l'ametista era più cara del diamante ed era sfoggiata dalla nobiltà da re e duchi, come simbolo di potere assoluto, poiché chi conosceva lo spirito poteva dominare anche la materia. Poiché oltre a essere simbolo di potere si riteneva che l'ametista favorisse il celibato, questo quarzo divenne anche noto come pietra papale e usato negli anelli di cardinali e vescovi. Il nome ametista proviene dal greco antico ametistos e significa colui che non si ubriaca ed è legata all'origine mitologica di questa pietra. L'associazione tra ametista e sobrietà deriva infatti da una leggenda che vede protagonista Bacco, dio del vino e dei divertimenti, e noto tra i greci come Dioniso. Bacco era solito sfogare la propria ira, in preda allebrezza, sugli esseri umani. Un giorno toccò ad una giovane discepola di Artemide, di nome ametista, e la fece aggredire da alcune tigri. Mentre Dioniso sorseggiava una coppa di vino pronto a godersi lo spettacolo, Artemide, per proteggere la giovane, la trasformò in una statua di quarzo. A questo punto Dioniso scagliò la coppa di vino rosso sulla statua, trasformandola nel quarzo rosa noto come appunto ametista. Da qui deriva il nome dell'ametista, nonché l'usanza del padrone di casa, durante in banchetti tra gli antichi romani, di bere da calici di ametista per rimanere sobrio e riuscire a controllare i festeggiamenti con maggiore lucidità. All'ametista vengono da sempre attribuite proprietà e poteri. In passato si credeva che l'ametista potesse guarire qualsiasi tipo di malattia o disturbo, trattare le ferite, migliorare l'intelligenza, allontanare cattivi pensieri e fungere da talisbano contro le energie negative. Oggi il quarzo ametista è collegato alla mente e gli vengono attribuite proprietà rilassanti. L'ametista sarebbe dunque indicata per favorire la meditazione, la consapevolezza e l'introspezione. Si tratta di una pietra legata alla spiritualità, alla meditazione e ai sogni. La si può ottenere sul sesto chakra durante la pratica meditativa per favorire l'introspezione e la consapevolezza, distaccandosi da pensieri ed emozioni negative. Indossata al collo, invece, l'ametista può aiutare ad affrontare e superare le difficoltà con lucidità mentale. L'ametista offre pace interiore, serenità, equilibrio e armonia. Elimina le inquietudini, risveglia la pazienza e allontana l'egocentrismo. Scioglie la paura e aiuta ad affrontare con più coscienza le situazioni. Ideale per superare i momenti di tristezza ed episodi di depressione lieve, soprattutto legati a perdite o danni subiti. Permette di rilassarsi sotto stress. Per ottenere effetti duraturi sul piano spirituale, si consiglia di portare l'ametista sempre con sé, a stretto contatto con la pelle. Si può anche mettere sotto al cuscino o sul comodino per favorire il sonno e per far luce sulla natura dei propri sogni.